Cari fratelli e sorelle, Oggi in Italia si celebra la giornata per la vita, sul tema Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta. Mi unisco ai Vescovi italiani nell'auspicare una coraggiosa azione educativa in favore della vita umana. Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al callo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo dell'interruzione della gravidanza, come pure per le persone che stanno alla fine della vita. Ogni vita è sacra. Perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita. Ricordiamo le parole di Madre Teresa «La vita è bellezza, ammirala». «La vita è vita, difendela». Sia col bambino che sta per nascere, sia con la persona che è vicina a morire. «Ogni vita è sacra». Saluto tutti quelli che lavorano per la vita, i docenti delle università romane e quanti collaborano per la formazione delle nuove generazioni, affinché siano capaci di costruire una società accogliente e degna per ogni persona. Qualso delекс. L'ommagrazione diệne distinta, Schl aktuell bambino che sta andắmandoci delle luande. Torno tutti che perdono tutto. Capitando larawnolta. Ricordiamo i loro forme rapporti. Perare le ricerho.